Siamo stati abbastanza, non dico fortunati, abbiamo cercato il punticino, siamo stati anche un po' graziati, però è anche vero che poi l'ultimo 20 minuti l'abbiamo disputato in 10. Abbiamo incontrato una grossissima squadra, che ho sempre detto che questa squadra, se ha qualcuno in più, magari che può dare cambio ai titolari, può dare in testa a tutti. È una squadra ottima, guidata bene, fa un buon calcio, e io ero consapevole di venire a giocare a Mazzaro in un campo difficilissimo. Avevo preparato la partita di cercare inizialmente se potevo vincere la gara, quantomeno per tenere lontano il Mazzara, però a quel punto preferivo non perderla. Abbiamo stretto i denti e ci siamo portati a un punto quasi meritatamente. Ho voluto disputare la partita con 5-6 centrocampisti per avere superiorità numerica a centrocampo e per avere più possesso palla. Invece ho trovato una squadra attenta e sveglia che quasi con la loro velocità mi hanno messo un po' in difficoltà. È chiaro che la partita si disputava a centrocampo, loro sono stati più attenti e più bravi a dare profondità e noi un pochettino abbiamo subito questo tipo di gioco. Siamo stati padroni del campo, abbiamo avuto solo quei due minuti nel momento in cui abbiamo subito un rigore che secondo me è molto in dubbio, però comunque è da rivedere. Poi solo una squadra in campo, è stata solo il Mazzara. Abbiamo peccato solo di ingenuità, perché è chiaro che avevamo 4 under più 2 che si sono giunti nel secondo tempo. È normale che... diciamo normale. Purtroppo non abbiamo sfruttato la situazione in pieno, però ottima reazione, ottimo il gioco. Il portiere è stato molto bravo, noi molto ingeniui. Poi ci sono state le ultime due occasioni. Tra l'altro una di Achim, poteva metterla dentro di testa, e l'altra di Fuschi, ma non solo. Se poi parliamo del tacco di Palumbo, sfortunato perché viene deviato dall'avversario, dico una serie di azioni, guardiamo la cosa positiva, intanto al punto abbiamo mostrato la classifica. La cosa positiva è la reazione della squadra che è ritornata dopo Agrigento, migliorando ancora la prestazione. Quindi tutto sommato positivo, cercheremo sicuramente di migliorare, di raggiungere il massimo di punteggio nelle prossime partite.